Ringrazio tutti di essere qui e permettetemi di parteciparvi la mia enorme soddisfazione per aver ricevuto e per ricoprire un incarico così prestigioso come quello di Console Generale d'Italia a Capodistria. Questo film ci offre l'occasione di rievocare un momento allo stesso tempo tragico ma fondamentale della storia del mondo, non solo del nostro paese. Qualche mese fa mi trovavo ancora in Belgio e mi sono trovata a partecipare alle commemorazioni per l'inizio della Grande Guerra. C'era il nostro Presidente del Senato in nome della Repubblica Italiana e abbiamo avuto modo di ripercorrere i momenti drammatici dell'inizio della guerra con la resistenza del popolo belga che di fatto poi ha ralentato l'avanzata dell'invasore. Oggi rivolgiamo un altro momento di quello stesso conflitto attraverso una testimonianza indiretta di chi ha vissuto quei momenti per il tramite della memoria del proprio padre. Credo che sia fondamentale, come dicevamo poco fa con qualcuno, mantenere vivo il ricordo, soprattutto per le generazioni future, per evitare di ripetere gli errori del passato perché purtroppo la memoria umana tende a passare con il passare del tempo e si perde la coscienza di ciò che la guerra può veramente produrre in termini di devastazione. Per cui spero che sia per tutti un momento di riflessione ma allo stesso tempo anche un momento di gioia per essere tutti insieme. Grazie.